Benvenuti da questa trasmissione che si tratta di Che Combinazione, tutti i pezzi di Pasqualino. Che Combinazione è uno, prego. Ma tu ti credi alle combinazioni quando le cose... Ma in quel momento è il titolo del programma. Ah, Che Combinazione. Che Combinazione. Sono andato all'ingegneria, ho incontrato Dario Argento. Che Combinazione. Bellissimo. Sono andato allo stagno, ho incontrato Giovanni Rana. Che Combinazione. Sono andato in sala parto e c'era Marco Travaglio. Che Combinazione. Questa è bella. Sono andato dal fruttimento, ho incontrato Manco. Che Combinazione. Terza e ultima puntata di... Che Combinazione. Tutti i pezzi di Pasqualino Bont. Ma che Combinazione. Sono andato in periferia e ho incontrato Susanna Tamarro. Che Combinazione. Che Combinazione. Comunque con una R. Sono andato a vedere una corsa di un mio amico e è arrivato Primo Levi. Che Combinazione. Che Combinazione. Questa è alta. Sono andato a vedere una corsa di una mia amica e è arrivata Ottavia Piccolo. Che Combinazione. Bellissima. E qui si chiude la ultima puntata perché non la faranno mai più. Che Combinazione. Che Combinazione. Tutti i pezzi di Masse. Tutti i pezzi di Pasqualino Bont. Che Combinazione. Grazie.